elevata fino ad arrivare l'attacco di panico, allora l'intervento è completamente differente. Qui vale proprio l'idea che se vogliamo superare la paura dobbiamo renderla amica. Quando la paura si esaspera e diventa qualcosa di patologico, la tecnica validata che utilizzano ormai tutti i colleghi anche di altri approcci, dopo che l'abbiamo formulata negli anni 80, si chiama la tecnica della peggiore fantasia. È una cosa che sembra controsenso, ma utilizza proprio il meccanismo della paura quando la paura diventa panico e è un tilt psicofisiologico, ovvero invece di cercare di reprimere i propri pensieri fobici, le proprie lezioni fobiche, si deve imparare a esasperarle volontariamente fino a portarle al loro eccesso, alla loro saturazione. E in questo caso la paura patologica collassa su se stessa, si infrange sui suoi stessi eccessi. C'è un antico stratagemma, la tradizione orientale, che suona spegnere il fuoco aggiungendo la legna. Cosa significa? Significa che nel caso della paura, come se io voglio spegnere il fuoco rapidamente, invece di cercare di tirare via la legna, devo aggiungerne tanta per condurre il fuoco a soffocare per la mancanza di ossigeno. Quello che è noto e sperimentato è che se io evoco la paura che vivo e volontariamente la porto alla sua esasperazione, l'organismo risponde risponde con un azzeramento della reazione fobica. È come quando nelle auto moderne abbiamo il motore che si va oltre un certo numero di giri, c'è il limitatore di potenza, si azzerano i giri. Tecnicamente si chiama effetto trans-marginale da un punto di vista neuropsicologico. E questo è molto importante perché è uno strumento fondamentale che si acquisisce attraverso il training, per cui tutti i giorni mi esercito volontariamente a cercare le mie paure, a esasperarle, finché mi attorno che l'effetto è come se io evocassimo fantasma, lo tocco e lo faccio svanire ogni volta. Evoco fantasma, lo tocco e lo faccio svanire ogni volta. E gradatamente acquisisco di nuovo la sensazione di efficacia personale, di capacità di gestire la mia paura non reprimendola, ma alimentandola fino alla sua saturazione. E badate bene, questo in una situazione composta in remoto è uno strumento importante per tutte quelle persone che, a differenza di quelle che abbiamo descritto prima, vivono situazioni di aggressione della paura, più differenziate. Non hanno il flashback del post-traumatico, dove ricorre l'immagine, ricorre la sensazione, ricorre quel tipo di esperienza. In questo caso tutto spaventa, tutto diventa un allarme. Come dicono i poeti, tutto ciò che fruscia mette terrore, come se ci fosse animale pericoloso. Tutto ciò che trema sta avvertendo che arriva qualcosa. La minima vibrazione mette terrore. In questo caso allora l'intervento deve essere quello che conduce la paura a collassare su se stessa attraverso la sua esasperazione sino al suo limite. Come vedete, gestire le reazioni dopo un'esperienza così potente e così devastante come un terremoto ci conduce a osservare come funziona la nostra mente. E la nostra mente in più delle volte non funziona così in maniera lineare come ci piacerebbe che fosse. La nostra mente molto frequentemente ha degli effetti paradossali, degli effetti contraddittori e ci può far credere che la cosa giusta da fare è una ma quella invece che essere funzionale diventa disfunzionale. Sono quelle psicotrappole della mente che ci mente continuamente. Ma soprattutto quando noi ascoltiamo da uomini moderni soprattutto la parte razionale, quello che lavora a livello della corteccia, quello che siamo abituati a utilizzare come un meccanismo di ragione. Ma quando abbiamo a che fare con la paura, la ragione è perdente, la razionalità è sempre a ritardo. Perché come vi spiegavo il meccanismo scapita partendo dal palio e cefalo senza passare per la corteccia. Quindi le tecniche che dobbiamo usare sono delle tecniche che vanno ben al di là della razionalità, della ragione. E tutto ciò che noi facciamo per combattere un post-traumatico o un disturbo da panico con la ragione è come una onda che infrange in un grande scoglio. È assolutamente inefficace. Così come il seguire il suggerimento quasi banale pensa in positivo. Pensare in positivo dopo un post-traumatico o di fronte a una paura fa esasperare ancora di più la paura perché più cerco di pensare in positivo più mi arriva la paura. Così come cercare di distrarsi, più cerco di distrarmi più penso a ciò da cui mi vorrei distrarmi. Pensare di non pensare è già pensare. Anzi più delle volte pensare è difficile. Se invece noi prendiamo la paura e la utilizziamo per il suo funzionamento, per come la paura scatta dentro di noi, per come possiamo alimentarla e trasformarla in risorsa, quello che può avvenire perché esperienze così devastanti e traumatiche come un terremoto poi facciano parte di un repertorio di esperienza che fortifica l'uomo e lo rende ancora più forte. Termine tecnico lo rende resiliente. Come dice un'antica metafora orientale, si tratta di trasformare le lacrime interne. Grazie.